Gubbio vista da una prospettiva diversa, quella dal torrente Camignano, che i giovani professionisti di officina Gubbio, Mattia Bertinelli, Francesco Abaldinucci e Andrea Benedetti, hanno fissato nel video dal titolo, che è anche una domanda, l'oro di Gubbio e il Camignano, le musiche suono di Lorenzo Cannelli and the Interstellar Orchestra. L'idea del video del Camignano è nata per due motivi, il primo è di dare una percezione diversa nella nostra città di Gubbio, attraversandola in maniera inconsueta rispetto a quelli che possono essere i percorsi più prettamente turistici, faccio un esempio da Piazza 40 Martiri fino a Piazza Grande. Il secondo motivo è quello di far riappropriare agli Gubbini dei luoghi che sono stati dimenticati da molti e ricordati da pochi. Partire da questi percorsi è importante perché con piccoli interventi di rigenerazione e valorizzazione possiamo mostrare a turisti una visione diversa di Gubbio. L'oro di Gubbio è richiamato nel video anche il titolo del workshop dedicato alla rigenerazione sostenibile, riuso degli spazi cittadini in programma Palazzo Pretorio venerdì e sabato prossimi. In questi giorni di preparazione e durante lo svolgimento dell'appuntamento il compito dei giovani di officina Gubbio sarà innanzitutto di supporto, ma vuole essere anche quello di portare stanze giovanili alla discussione. Perché oltre a vari esperti di livello nazionale, a partire dal principale consulente del progetto, l'architetto Feri, che illustreranno le strategie socio-economiche più innovative in tema di rigenerazione urbana, gli iscritti ai quattro tavoli, la città dello sviluppo, la città sostenibile, la città per tutti, la Gubbio che vorremmo, discuteranno dal loro punto di vista quattro scenari, le porte, l'uso della città e la mobilità, la rigenerazione della città nuova, il riuso degli spazi per attivare energia, la città come hub di bellezza. Alla fine saranno incrociati i risultati dei tavoli collettivi per trarre conclusioni e ipotizzare progetti. Il workshop partecipativo sarà un incontro molto importante dove chiunque abbia interesse può partecipare e lasciare una propria idea. Questo workshop serve di supporto all'architetto e all'amministrazione per formare un'idea dove non sarà una lista dei sogni, ma preparare il terreno per una rigenerazione e una valorizzazione della città. Intanto voi siete al lavoro e sono in corso di pubblicazione altri video, no? Sì, ci saranno delle piccole sorprese nei prossimi giorni per promuovere questo evento. Grazie. Grazie.